e per la gente che ama soltanto a te per tutti quei chilometri che ho fatto per te devi buongiornissimo caffè bentornati e bentornati al barbasso è arrivata la data 22 di aprile 22 di aprile 2024 la data che tutti aspettiamo la data che potrebbe cambiare il corso della storia recente della storia in generale di tutte le nostre passioni umori emozioni interiste ma in realtà anche le emozioni di tutti gli altri gli altri che sono milanisti soprattutto e quindi e quindi che dire che dire se non succede oggi succede un'altra volta dire che se non succede la prossima volta succede la volta successiva eccetera 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 c'è veramente poco da dire oggi la cosa che mi piacerebbe mi piacerebbe dire è semplicemente che ci godiamo il panorama come ha detto come ha detto in zaghi ci godiamo quello che vediamo davanti a noi ci godiamo tutto il percorso fatto ci godiamo il fatto di esserci arrivati prima degli altri dobbiamo dobbiamo essere felici dobbiamo essere felici perché questo è un derby che possiamo affrontare e di cui possiamo approfondire l'esistenza sto parlando come spalletti in maniera molto più rilassata molto più tranquilla molto meno agitata del solito con un'atmosfera incredibilmente gioiosa e anche incredibilmente in qualche modo responsabilizzante che però tiene conto di quello già fatto e lo riconosce e questa è una felicità una felicità infinita che se non dovesse realizzarsi domani potrebbe comunque arrivare a realizzarsi quanto quanto prima detto questo una serie di risposte una serie di cose che leggo io tra l'altro domani sarò a milano è una milano che speriamo speriamo già in festa e una cosa che che vorrei dire rispetto a quanto ha fatto di risultati il mio video precedente in cui rispondo a un milanista ho ricevuto alcune risposte del tipo che ho perso troppo tempo per rispondere a una persona mononeuronale e quant'altro io vi dico solo che gli insulti li lasciamo agli altri questa persona in tutto ciò non mi ha neanche insultato e quindi ho ritenuto utile interessante dare una risposta appunto a prescindere perché perché la ritenevo corretta e mi ha aiutato a ribadire una serie di cose a parte aver fatto un sacco di view e un sacco di iscritti per questo e vi ringrazio ovvero che non c'è una ragione per cui il milanista oggi debba essere contento a prescindere da come va il risultato nel senso che tra l'altro se dovesse vincere il derby potrebbe insinuarsi ancora di più l'idea che come dire pioli eventualmente potrebbe rimanere quindi sicuramente non ci sarebbe una vittoria veramente una vittoria enormemente di pirro e io sono sono semplicemente convinta che sia utile diffondere una cultura della razionalità anche quando si parla di tifo perché non è che perché è calcio siamo allora siccome è calcio vale tutto no la vita richiede anche della misura la vita richiede anche del buon senso io credo che se io fossi milanista l'ultima cosa che mi metterei a pensare di fare è andare a prendere per il culo i miei rivali storici che hanno vinto e io non ho nulla da dire in contrario rispetto a quanto io ho fatto personalmente ma devo andarmi ad attaccare al resto e se dovessi quindi chiuso questo argomento se dovessi guardare poi l'inter devo dire che questa è un'enorme soddisfazione perché in qualche modo non c'è nulla che oscura questa vittoria e quindi sono molto contenta c'è un po di tristezza perché è la fine di una cavalcata bellissima che sicuramente porterà una cavalcata successiva a breve ma francamente mi dispiace mi dispiace perché in qualche modo mi mancherà mi mancherà quest'anno in cui in qualche senso anche il vedere le partite a un certo punto è stato è stato relativamente interessante perché era solo chi segnerà chi non segnerà mi sono sentita un po la juve di certi anni rispetto rispetto alla quantità di superiorità che avevamo nei confronti dell'avversario e quindi francamente dico la verità sono sono un po dispiaciuta sono un po dispiaciuta perché ho la sindrome del sabato del villaggio e ho la come dire la sensazione che è un po questa mi hanno detto più volte e in queste settimane è beh dai è un'eventualità che l'inter pareggi ma l'eventualità normale è strano per voi perché come si stesse perdendo e in effetti è così c'è dell'amarezza per la champions e anche per la coppa italia perché credo che avremmo potuto andare avanti fino in fondo e questo è magari ne parleremo un'altra volta ma credo sia proprio il il passaggio che manca tra i vari ma diciamo da un punto di vista sportivo alla società e forse anche all'allenatore di pensare a tante cose insieme senza mollarne in giro guardate guardate le varie grandi squadre insomma dell'europa e chi oggi sta sopra al ranking nostro poi si vedrà ma avremo tempo per riflettere voglio esplicemente che questo video sia un flusso di coscienza del pre derby in cui per gli milanisti sarà veramente un incubo e un vero dramma sportivo in realtà a prescindere da come andrà augurandomi che poi le feste dei nostri siano molto più pacate molto più cioè non lato tifosi ma lato lato insomma lato squadra molto meno come posso dire vivino una brutta parola molto più controllate e molto più eleganti e fini rispetto a semplici sfottò su familiare o o anche pensando alle altre squadre perché a te del milan e della juve te ne frega il giusto ti interessa festeggiare per te e questo è un po l'augurio che ho io è ognuno di noi con la propria sensibilità festeggi che sia stasera o che sia la volta successiva non importa o la volta dopo ancora un qualcosa che che mi viene da piangere a dirlo perché è veramente emozionante per quanto l'abbiamo cercata e per quanto la vedevamo arrivare quasi l'attesa si è fatta estenuante ma sapevamo che c'era e talvolta l'attesa di qualcosa di sicuro è molto più difficile anzi direi quasi sempre rispetto all'attesa di qualcosa di incerto quindi forza ragazzi forza inter siamo tutti con te stasera ci vediamo brevemente nel post partita poi domani purtroppo mi toccherà registrarlo dal treno e ognuno la goda e se la goda come può come vuole con la sua emotività perché tutte le emozioni vanno bene solo un po di buon senso poi esternamente mi dispiace per tutti gli amici milanisti e i non amici milanisti mi metto nei vostri panni e francamente mi dispiace penso che dovete fare una grossa riflessione che il nostro tempo oggi non è quello di pensare a voi ma che so che guardate i video più degli giuventini e quindi ve lo dico una riflessione interna prima che guardare fuori e cominciare a urlare allo scandalo noi intanto ci godiamo la partita di stasera a prescindere da come andrà ci sentiamo dopo sono molto emozionata stop whining forza interna